Guarda, è amico di un ratto! Sei tornato normale! Tra poco, a casa dei Loud! Prendi il mantello, perché Lincoln Loud, SpongeBob, Danger Force, i Thunderman e Henry Danger sono i nuovi eroi del momento! Ora pensa ad Halloween, è il momento più spaventoso dell'anno! Mettili insieme, cosa ottieni? Heroin, una settimana piena di episodi da brivido delle tue serie preferite di Nick! Non perdere! Heroin, tutti i giorni alle 19, solo su Nickelodeon! Preparati per la casa più spettrale! È infestata? Di sempre! Perché nessuno festeggia Halloween come i Loud! Porteranno tutti i dolcetti in gli scherzetti! Non perdere! La vera spaventosa casa dei Loud! Venerdì 27 ottobre alle 19, su Nickelodeon e in streaming su Paramount Plus! Che divertimento con Pictionary R2! Il gioco interattivo nel quale anche tu fai parte del disegno! Non è importante disegnare bene, ma disegnare insieme! Pictionary R2, sfide all'ultimo disegno! Disegna con la bacchetta e vivi la magia di Harry Potter con Pictionary R Harry Potter! Ciao, siamo Atom e la mia amica Alia! Dai, vieni con noi! Abbiamo fatto un pigiama party divertentissimo! E ora andiamo alla scuola internazionale! Ciao, Ollie! Ciao, Leo! Alia, pronta per la lezione! Scopri le novità Lego Friends e vieni a conoscere i tuoi nuovi amici su lego.it slash kids! Prossima fermata? Dovunque tu voglia! Scopri il nuovo treno passeggeri espresso di Lego City! Scegli tu la prossima destinazione! Rainbow High Color and Create! Crea il mio look! Le mie scarpe e i miei capelli sono arcobaleno! Lava, ripeti! E poi crea e colora ancora e ancora! Rainbow High Color and Create vendute separatamente! Nuova casa dei sogni! Barbie sale per la festa e poi tutta in cameretta! Oh, lo scivolo per un super tuffo! Scopri la nuova casa dei sogni! Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri! Barca dei sogni! Barbie nel mare blu! Tuffati anche tu con gli accessori da sub! E' un delfino! Mille avventure e poi tanti amici con noi! Scopri la nuova barca dei sogni! Con Barbie puoi essere tutto ciò che desideri! Vivi Sky con immagini e colori ancora più reali! E' un canale in 4K HDR interamente dedicato allo sport! I tuoi programmi come non li hai mai visti! 4K HDR! Ed ora a casa dei laude!